saxton 110 della capper l'hanno distribuito dalla decathlon in questo video cari amici parliamo di esche artificiali e andiamo ad analizzare nel dettaglio questa questo minov quest'esca artificiale dedicato maggiormente alla pesca spinning in mare e anche in seguito alle prove che ho fatto in questi ultimi giorni in pesca vi darò anche quelle che sono le mie considerazioni in merito oltre a vedere insieme quelle che sono le specifiche e le caratteristiche costruttive di questa esca artificiale sigla e partiamo andiamo allora si tratta di due esche di 11 centimetri e la tipologia è tipicamente il minov jerkbait il peso del modello da diciamo quello galleggiante floating è 14 grammi mentre arriviamo a 15 per il modello suspending si tratta di artificiali dotati di due ancorette vmc non provvisti di rattles quindi sono esche silent per quanto riguarda invece il bilanciamento interno troviamo un binario su cui scorre un cilindretto che alle ad un'estremità è previsto un magnete che ne blocca il movimento dopo la fase di lancio per quanto riguarda l'armatura interna non è provvisto di armatura interna sono degli anellini saldati direttamente sul corpo dell'esca e la profondità di nuoto a cui arriva questo artificiale varia fra i 40 e 60 centimetri mentre per la versione suspending arriviamo fino a 70 centimetri di profondità parliamo adesso delle caratteristiche di queste due esche artificiali del saxton 110 allora secondo diciamo questa anche questa prova che ho fatto in pesca secondo le mie impressioni si tratta di esche artificiali che danno il meglio di sé a mare calmo poco mosso o soprattutto in in risacca con onde diciamo presenti ma non eccessivamente alte nella condizione ideale meteo e quella di poco vento o con vento teso di media potenza perché queste esche artificiali come la grande maggioranza delle esche in cui è presente la paletta di testa soffre il vento con durante l'azione di lancio soprattutto per cui ecco da il meglio di sé in condizioni non al limite per quanto riguarda invece lo spot ideale dove utilizzare queste esche artificiali sicuramente si tratta di fondali bassi in spiaggia nei pressi delle foci o da scogliere diciamo a lento declino non eccessivamente profonde e comunque sono ideali per una pesca diciamo abbastanza superficiale tra i 40 e i 70 80 centimetri danno il meglio di sé fino ad arrivare a fondali che vanno dal metro al metro e mezzo dove entrando in azione sulla mezzacqua comunque riescono a richiamare i pesci che sono presenti sia al di sopra che al di sotto della fascia di lavoro di questa esca artificiale per per quanto riguarda i predatori secondo me si tratta di prede di media grandezza soprattutto un esca ideale per la spigola e per il pesce serra ma che secondo me ha delle potenzialità anche verso altri predatori come ad esempio il barracuda perché no anche la lampuga viste le sue livree ecco che richiamano il pesce foraggio e sappiamo bene che la lampuga è molto attratta dalle dalle imitazioni di pesce foraggio nel complesso credo che sia un esca ben bilanciata tra quello che è poi il suo peso e la lunghezza è una esca secondo me che ha delle potenzialità soprattutto grazie alle caratteristiche di di nuoto per quanto riguarda l'attrezzatura consigliata per ecco riuscire a sfruttarla al meglio per far lavorare al meglio questa esca artificiale io penso che un'attrezzatura di media potenza sia quella ideale magari una canna che va come potenza di lancio fino ai 20 grammi di peso ecco sia un po il range ideale per questa per queste esche artificiale ma che si tratta comunque di un'attrezzatura che quella tipica per lo spinning medio nel nel mediterraneo parliamo del lancio sinceramente sono stato abbastanza soddisfatto del lancio la distanza raggiunta è buona diciamo non ottima però ecco si raggiunge questa distanza con poco sforzo è nella media secondo me di esche di fascia simile questo è dovuto la distanza di lancio raggiunta è dovuta alla pesistica interna ben bilanciata e che è una combinazione di pesi fissi e pesi mobili infatti al suo interno all'interno di questa esca è presente un binario su cui scorre questo cilindretto nella parte finale nella coda il cilindretto viene bloccato durante la fase di lancio il cilindretto va verso la coda e si blocca in quella fase permettendo ecco all'esca di volare secondo una traiettoria ben definita e in questo modo anche ci facilita il taglio ecco della corrente del del vento dell'aria arrivata in in acqua l'esca il cilindretto si sposta nella posizione anteriore perché viene richiamato da un pesetto che è magnetico e si trova nella parte della testa che richiama questo cilindretto e quindi bilancia l'esca per un nuoto efficace durante il recupero infatti se riuscite a sentire nel momento in cui noi lanciamo l'esca il pesetto va verso la parte della coda perché viene ecco richiamato dall'energia cinetica quando l'esca cade in acqua ecco il pesetto va nella parte della testa in questa parte c'è una sfera magnetica che attrae il la pesistica interna e quindi ecco bilancia contro bilancia l'esca artificiale infatti il cilindretto rimane bloccato nella parte della testa soltanto con un bello scossone durante l'azione di lancio il cilindretto ritorna nella coda per permetterci una lunga gittata parliamo anche delle caratteristiche di nuoto che è una delle caratteristiche più interessanti di di questa esca sia la versione floating che la versione suspending e secondo me è un nuoto tipicamente prettamente misto rolling e wobbling con una particolare accezione verso il wobbling infatti a differenza di quello che è descritto sul sito ufficiale decathlon questa esca reagisce soprattutto sulle ondulazioni sul suo asse orizzontale quindi oltre il rolling che è definito dall'asse verticale no è il nuoto sull'asse verticale dell'esca questa questa esca in base di recupero ha un wobbling molto accentuato e questo wobbling permette all'esca durante le azioni di nuoto di emettere tanti flash che sono dei richiami ecco verso il predatore che si trova nei paraggi e mixato al rolling il rolling invece emette maggiormente delle fa emettere delle vibrazioni all'esca quindi questo mix flash bagliori vibrazioni emesse dal dal pescetto ecco è un mix davvero interessante per per un'esca diciamo di simili forme dimensioni è un bilanciamento ideale per quelle che sono le caratteristiche di nuoto che un'esca artificiale deve avere secondo me a facilitare anche questa azione di nuoto abbastanza sinuosa ecco chiamamolo così c'è anche la paletta che comunque la paletta di testa è ben studiata e ben proporzionata all'esca e ecco in qualche modo riesce a dare quella attrazione in più rispetto all'acqua e per far emettere delle maggiori vibrazioni all'esca e donargli quella che è un po il nuoto realistico che noi vediamo nelle nelle fasi di recupero dell'esca allo stesso modo ci sono delle vibrazioni discrete che si sentono in canna soprattutto quando noi aumentiamo la velocità di recupero si aumentano le vibrazioni che invece sono diciamo nella media di altre esche ma comunque ben studiate ben bilanciate durante la fase di diciamo di nuoto con un recupero medio o lento ripeto che si tratta di un'esca non provvista di rattling interno infatti l'unico rumore che sentiamo è quello del pesetto fisso che diciamo sbatte verso le pareti della plastica ma non è presente un rattling interno diciamo che è un'esca che fa poco rumore la potremmo definire un'esca silent e in definitiva per chiudere sulle caratteristiche di questa esca vi posso dire che le ancorette di cui è dotato gli anellini di cui è dotata l'esca sono bilanciati e di qualità rapportata ecco anche un po al al prezzo quindi di ottima rapporto qualità prezzo in definitiva per riassumere un po il discorso sul saxton 110 di cui stiamo parlando in questa recensione si tratta di un'esca che io penso sia adatta un po a tutti un'esca che mi ha piacevolmente sorpreso soprattutto come dico anche nella parte iniziale del video per le colorazioni le colorazioni sono quelle che mi hanno fatto diciamo suscitare un'attenzione particolare verso queste esche artificiali davvero davvero ben fatte e come dicono in tanti sul anche sul web leggo spesso essendo dire spesso che un'esca artificiale è studiata per catturare i pescatori ma in effetti in qualche modo lo è però ecco se questa esca riesce un'esca artificiale riesce a catturare il pescatore il pescatore ci pesca con maggior fiducia diciamo così e quindi ci pesca di più ed è l'esca l'esca che viene maggiormente bagnata è l'esca che riceve per forza di cose più più attacchi è una questione di statistica quindi ben vengono colorazioni così belle per catturare l'attenzione del pescatore è di conseguenza anche il pesce una cosa un'altra cosa che mi ha sorpreso è sinceramente la tenuta del nuoto anche in presenza di un'onda abbastanza accentuata nella risacca è un'esca che va in pesca la senti bene in canna è un'esca che comunque riesce a lanciare con relativa facilità ecco basta stoccare delle belle gittate belle secche riesce a tagliare bene il vento e riesce ad entrare in quegli spot nella strike zone dove sappiamo magari grazie anche la nostra esperienza che dobbiamo fare certe volte quel metro in più per riuscire ad essere maggiormente efficaci nei confronti dei predatori e quindi un'esca che ci permette di fare lanci precisi e ad una buona distanza un'esca dal ottimo rapporto qualità prezzo se non sbaglio l'ho pagata intorno ai 9 10 euro quindi tutto sommato per per quanto riguarda la qualità costruttiva di questa esca l'efficacia e la disponibilità anche nei negozi locali diciamo che è un'esca dal grande rapporto qualità prezzo un'esca efficace e che in particolare è un'esca adatta anche un po' a tutti perché non c'è bisogno di una grande dote tecnica delle fasi di recupero per poter utilizzare con efficacia questa esca perché basta un semplice recupero anche lento lineare oppure per i più esperti possiamo intervallare con qualche stop con qualche cercata qualche ripartenza aumento di velocità diciamo un'esca che si presta sia alla fascia di utenza più entry level per coloro che si stanno affacciando vorrebbero affacciarsi alla pesca spinning meno adatta una pesca è una un'esca artificiale ecco adatto anche a chi è magari anche un po più tecnico e cerca un'esca che gli permetta di sintetizzare al massimo quello che è l'interpretazione una chiave principale per essere maggiormente efficace nei confronti dei predatori più astuti siamo giunti alle fasi conclusive di questo video nei prossimi video se vi fa piacere scrivetelo magari sotto nei commenti potremo approfondire anche verso gli altri modelli di saxton il 75 sinking e le altre esc decathlon che vi fa piacere magari vedere recensite qui su planet spin ringrazio tutti voi per la visione di questo video se vi è piaciuto lasciate un like non vi dimenticate di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e per il momento da luigi è tutto o lascio un grande saluto a tutti gli amici di planet spin ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.